Il 9 e il 10 novembre prossimi le strade di Salerno si coloreranno nuovamente di rosa per accogliere la più grande manifestazione in Italia e nel mondo per la lotta ai tumori del seno. L'associazione Noi Donne soprattutto è nuovamente al fianco di Come in Italia per contribuire alla valorizzazione e alla diffusione della cultura della prevenzione. Il programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile di Come in Italia che offre ad un pubblico sempre più ampio attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzioni delle principali patologie oncologiche di genere. Siamo pronte e cariche per darvi una notizia davvero importante. Ritorno a Salerno la manifestazione più importante al mondo dedicata alla lotta contro i tumori al seno, la Race for the Cure. Le strade, il lungomare di Salerno, il sottopiazza Salerno, il piazza della Concordia si tingerà nuovamente di rosa. Dobbiamo prendere le situazioni di petto quindi il 9 e il 10 novembre sotto piazza della Concordia vi aspettiamo perché abbiamo una situazione bellissima, cioè corriamo per la cura che si dice Le scorte che giù! Vi aspettiamo il 9 e il 10, corriamo contro il tumore, corriamo per la prevenzione. Grazie!